Amici di milan.soc, ben ritrovati, sono qui con il nuovo libro Vocabolario Milan, vi chiedo di aiutare questo canale come? Acquistandolo. Qui sotto, link in descrizione, Amazon ve lo porta a casa. Al prezzo di 10 euro ogni lettera dell'alfabeto, abbiamo scelto una curiosità, ma una curiosità originale, non le solite cose che già si sanno del Milan, quando è nato, l'abbiamo scritto anche noi sul libro Romanzo Milan, quindi se vi va qui sotto potete acquistarlo, ripeto, link in descrizione, sempre in descrizione potrete trovare anche il sito dei nostri amici di Monaco di Baviera, che hanno creato qualcosa di straordinario, Amici Rosso Neri, e sì, potete scaricare musica copyright free, avete visto la copertina? Il lupo perde il pelo ma non il vizio, già, perché questo paese poi alla fine, puntini puntini. Già, di cosa sto parlando? Ora arriveremo al dunque e magari commenteremo insieme, però prima lasciatemi dire che Ibrahimovic ha parlato nuovamente, questa volta, sempre dagli Stati Uniti d'America, nel canale ESPN, so che pronuncia? ESPN, vabbè? Comunque ESPN, e ha parlato della turnè, ha parlato della turnè rossonera, un'esperienza, dice lui, da dirigente molto particolare, prima interviene su Pulisic dicendo che l'anno scorso ha fatto bene, ma non la sua migliore stagione, quindi ci siamo. Ogni tanto c'è una frecciatina da qualche parte dedicata a Pioli, eh? Guarda caso, andava tutto bene, sì, perché poi tra le righe si capisce che il ragazzo non era tranquillo, è lo stesso ragazzo che poi aveva detto, mi urlava, mi urlava, ma io non capivo cosa dicesse. Ora, al di là del fatto che lui deve parlare italiano o l'altro deve parlare inglese, non importa il buonsenso, il buonsenso, è che se arriva uno lì per lì, poi non è che devi fare una diatriba sul parlare italiano in Italia o straniero all'estero, se non capisce non fa quella cosa, no? Il buonsenso, non codifichiamolo, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, molti non ce l'hanno. E poi ha parlato dell'essere dirigente, un cambio che si affronta giorno dopo giorno, le solite chiacchiere di Ibrahimovic, ma le responsabilità e le pressioni mi piacciono. Le pressioni noi ce le mangiamo a colazione. Sempre questa necessità di sfidare il mondo quando ormai sei in una sorta di anonimato, perché così è il calcio, dalle stelle alle stalle. Qual è la cosa più difficile? Chiede il giornalista, dice io conosco i ragazzi perché ci giocavo assieme, adesso io prendo decisioni, quindi lui prende decisioni, è un consulente, c'è un amministratore delegato, non possiamo negare che ci sia confusione all'interno di questa squadra, c'è un amministratore delegato che giuridicamente ha un certo ruolo, comunque lasciamo perdere. Riguardano questi giocatori sul loro futuro, non è facile da compagni a lavorare sopra di loro e prendere, dice io non abbia sempre questa necessità di ribadire, probabilmente è fragile caratterialmente, non fisicamente, ma caratterialmente, perché bisogna lavorare sopra di loro, prendere decisioni per loro e spesso non sono semplici. Poi parla di suo figlio, da padre sono molto orgoglioso, anche mio padre sarebbe orgoglioso se fosse un dirigente che prende decisioni nel Milan e mi vedesse giocare nel Milan, ma di se stesso dovrebbe essere orgoglioso. E poi ancora dice ha lavorato molto, non è facile per lui portare il mio cognome, ma per ora ha avuto una forte mentalità e di questo io sono orgoglioso, come è giusto che sia, è la cosa più importante. Poi ci penserà il destino, se dovrà succedere, succederà. Quindi abbiamo scoperto che il secondo nome di Ibraimovic è destino, ci penserà destino a far fare carriera a Ibraimovic all'interno della squadra. Bene, dopo Zlatan destino Ibraimovic continua sul fatto di fare o meno l'allenatore. Fare l'allenatore non è facile, bisogna lavorare tutti i giorni e quindi io voglio il tempo libero per fare altre cose, quindi questo ci dice che come dirigente lavora non tutti i giorni. Ma passiamo alla copertina. Beh, è una copertina importante, però visto che è ufficiale, Juve, siglata una nuova partnership. Quindi tutti si aspettavano quale sarà il nuovo partner, official partner sponsor della Juventus. Ecco che è arrivato ed è l'Enel. Juventus ed Enel hanno ufficializzato una nuova partnership. Dalla prima giornata di campionato contro il Como, il prossimo 19 agosto, Enel scenderà in campo all'Allianz Stadium, comparendo su un maxi schermi, LED, backdrop, senti backdrop, è quello lì, per le interviste accompagnando la squadra in tutte le partite casalinche. Insomma, diciamo che uno sponsor molto importante, rilevante oserei dire, e allora voi mi dite perché questo cosa c'entra? Andiamo a vedere di chi è l'Enel. È un soggetto privato? Sì, ma chi sono i partner? Chi sono gli azionisti? Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 31% BlackRock, quindi il 31% del Ministero delle Finanze, poi BlackRock e poi il 66% capitale flottante, ma la cosa che mi interessa di più è che stiamo parlando del Ministero dell'Economia. Allora se il Ministero dell'Economia, che è retto da Giorgetti, lo stesso che aveva detto in illo tempore sul falso in bilancio, se la Juventus dovesse essere colpevole va sequestrato lo stadio, quindi passiamo dal sequestrare lo stadio, cosa che poi non è mai accaduta, al sponsorizziamo pure la Juventus. Ma questi soldi sono soldi pubblici ed essendo soldi pubblici non è il corretto che uno sponsor di questo tipo vada ad aiutare una sola squadra. Bisogna che gli sponsor o sono privati privati, Fly Emirate piuttosto che al tempo Barilla o Ariston, ve lo ricordate? Gli sponsor degli anni Ottanta, Juventus-Ariston e poi il Milan aveva, aveva i i jeans Poo, oppure aveva avuto un certo periodo pochissime partite, Oscar Mondadori e poi vediamo chi si ricorda ancora Rete4 ha avuto come sponsor e poi Mediolanum, Mediolanum ce lo ricordiamo tutti bene, poi abbiamo avuto Opel, poi abbiamo avuto B-Wind, poi abbiamo avuto, dai qualcuno che dimentico me lo direte voi tra i commenti. Io sinceramente rimango abbastanza basito perché va bene tutto, ma oggettivamente perché la Juve ha avuto difficoltà a trovare sponsor, è chiaro che non può prendere porchetta da Mario, anche se porchetta da Mario non avrebbe i soldi, però è pur sempre al centro di un merchandising, già i nuovi sponsor su alcune maglie sono inguardabili o come nel caso della Roma e anche dell'Inter sono insolventi perché vi ricordate che c'è stata una forte insolvenza in bilancio relativamente ad uno sponsor che poi non ha mai pagato. In questo caso lo sponsor è uno sponsor importante, parliamo di Enel e dunque mi chiedo per quale ragione Enel che è sì un soggetto privato, giuridicamente però è privato, perché il socio o meglio l'azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Allora mi chiedo, caro Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha intenzione di sostenere anche il Milan, me lo faccia sapere. Grazie per averci scelti, ci vediamo più tardi, ciao ciao!